Tre arresti, quelli che hanno colpito i vertici dell'ex cooperativa Gorrae, se denuncia un'inchiesta, quella firmata dalla Guardia di Finanza di Arezzo e coordinata dal procuratore Roberto Rossi, destinata a raggiungere anche livelli diversi. Intanto c'è da stabilire come sia stata possibile una maxievasione da 26 milioni di euro. Poi, particolare non da poco, successivamente agli interrogatori di garanzia, capire se ci saranno ripercussioni per gli 800 dipendenti e per i degenti delle strutture, per lo più anziani o persone con patologie particolari gestite dalla cooperativa. L'accusa per tutti è di associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale e altri reati contro la pubblica amministrazione e la preoccupazione sul mondo del lavoro arriva anche dalla CGL. Siamo preoccupati per questo duro colpo al sistema cooperativo della nostra provincia. Nonostante le numerose vertenze che in questi anni ci hanno visti contrapposti ad Agora, si legge in una nota, questo non è il momento dei giudizi, sarà compito della magistratura accertare i fatti e determinare la verità. Quello che adesso ci preme è stare vicini ai lavoratori disorientati per quello che sta succedendo. Chiediamo pertanto nel pieno ruolo della CGL, non solo della singola categoria funzione pubblica, che il sistema istituzionale apra immediatamente un confronto serio per dare garanzie occupazionali.